Ok ragazzi, cominciamo di nuovo 20 metri a Rosenberg, la città di Germania e poi cross the border in Austria sunny day, 12 degrees ok ragazzi l'ultimo tratto tedesco 20 km da Rosenberg ecco questa bellissima pianura più main in Bergia e l'Austria l'ultimo tratto e si barca il confine per l'Austria wish me good luck buona fortuna a me che mi faccia passare però come Yoda I do like Yoda in Star Wars look and go through un po' di una a me come vi ha fatto l'animata a Germania ciao a tutti ci vediamo in Austria